Giorno 10 verso il titolo di Maestro Fide, oggi andremo a parlare di pattern di scacco matto. In particolare andremo a vedere vari esempi sullo scacco matto di Anastasia, vi mostrerò varie posizioni e andremo sempre ad aumentare il livello di difficoltà fino a risolvere esercizi veramente molto complessi. Per quale motivo è importante iniziare a familiarizzare con qualche pattern perché non basta applicare il metodo delle mosse forzanti perché purtroppo in partita, a differenza degli esercizi che andiamo a risolvere, non sappiamo della presenza di una combinazione, quindi dobbiamo immaginarci che possa esserci questa combinazione e per andare a intuire o comunque a intravedere velocemente quelle combinazioni anche più nascoste dobbiamo avere più pattern nella nostra testa. Quindi nel video di oggi inizieremo ad analizzare questo pattern qua e più avanti nei video futuri potrò portarvi altri pattern. Scrivetemi nei commenti i vostri tipi di scacco matto preferiti che magari posso farci quindi così un video, posso dare priorità a quel tipo di scacco matto e iniziamo subito. In sostanza lo scacco matto di Anastasia è questo qua. Il cavallo fa scacco al re, il re deve spostarsi ad esempio in H7 e adesso come vedete questo cavallo va a controllare tutte queste vie di fuga del re. Di conseguenza lo scacco di torre è letale e questo qua è scacco matto. Questo è lo scacco matto di Anastasia con cavallo e torre. Questo era un esempio molto facile per introdurvi all'argomento. Iniziamo a vedere qualche altra posizione. Ad esempio qua. Provate a stoppare il video e a trovare la soluzione. Provate a farlo per ogni esercizio. Ancora una volta non si tratta di una posizione troppo complessa. Possiamo andare a catturare questo alfiere e dopo re prende torre, la torre fa scacco ed è ancora una volta scacco matto. Quindi molto bene. Prossimo esercizio. Ancora una volta non è troppo complesso però così iniziate a ingranare questo tipo di scacco matto. La torre va a mangiare il pedone con scacco. Il re non può scappare in G8 per via del cavallo. Il re cattura e ancora una volta torre H1 è scacco matto. Quindi sempre scacco matto di Anastasia. Questo inizia ad essere già leggermente più complesso anche se in realtà neanche troppo. Qui qual è la mossa forzante che abbiamo a nostra disposizione? Tra l'altro dobbiamo stare attenti perché il nostro avversario comunque è molto minaccioso con la regina e con quella torre. E qua la mossa vincente. Regina prende pedonino a 7, scacco. Il re è attirato ancora una volta in questa casella e poi la torre va a dare scacco matto con l'aiuto del cavallo. Quindi per ora esercizi molto simili tra loro. Passiamo a qualcosina di leggermente diverso. Stavolta riuscite a trovare lo scacco matto? La mossa che ci fa vincere in questa posizione è regina in F8. Regina in F8, sacrifichiamo la regina. Se il re va in H7, la regina va in G7 difesa dal cavallo ed è scacco matto. E quando il re va a catturare la regina bianca, a questo punto applichiamo uno scacco matto di Anastasia leggermente diverso rispetto a prima, però il concetto in realtà è lo stesso. Ovvero il cavallo blocca queste due caselle e la torre toglie tutte le altre vie di fuga. Quindi ancora una volta scacco matto. Prossimo esercizio. Qui riuscite a vedere la combinazione. Inizia sempre a complicarsi un po' di più. Ancora una volta, la mossa qua è cavallo e due. Quindi il cavallo lo andiamo a portare nella posizione che ci permette poi di andare a creare quello scacco matto di Anastasia. Il re deve scappare in H1 e ora in modo molto simile agli esempi precedenti possiamo andare a sacrificare la regina, a tirare fuori il re, quindi aprire la colonna H e poi con questa torre possiamo andare a dare scacco matto un'altra volta a quel cavallo che toglie le vie di fuga al re. Adesso passiamo ad un esercizio già un po' più difficile. Un po' più difficile qui. Cosa possiamo fare? Vediamo innanzitutto che questi due alfieri e questi pedoni sono molto minacciosi. Allo stesso tempo il re in H6 non è troppo al sicuro e qui possiamo applicare il metodo delle mosse forzanti. Qual è lo scacco che abbiamo in questa posizione? Lo scacco che abbiamo è pedone G5 quindi dobbiamo analizzare per primo questo scacco. Proviamo a vedere. Quindi pedone G5 scacco. Adesso il re ha tre caselle. Può catturare il pedone, può scappare in G7 oppure può scappare in H5. Mettiamo caso che il re catturi il pedone in G5. Adesso qual è una mossa forzante? Una mossa forzante ad esempio è cavallo e 6 scacco che attacca il re e difende allo stesso tempo la torre del bianco. Il re che caselle ha a sua disposizione la casella H5 e la casella H6. Sul re H6 abbiamo lo scacco matto di Anastasia. Sul re H5 come possiamo dare scacco matto in due mosse? Possiamo semplicemente tornare indietro con l'alfiere, dare scacco, mossa unica re H6 e torre H4 è di nuovo lo scacco matto di Anastasia. Quindi su pedone G5 il re nero non può catturare il nostro pedone. Su re G7 cosa succede invece? Su re G7 non abbiamo lo scacco matto di Anastasia, abbiamo un altro scacco matto che è lo scacco matto arabo, quindi un altro pattern ancora, dove in sostanza il cavallo fa scacco e dopo re G8 lo scacco matto ce l'abbiamo con torre F8. Dopo pedone G5 il re quindi deve scappare in H5, ma a quel punto che mossa forzante abbiamo, abbiamo alfiere F3 scacco e dopo re per G5, cavallo E6 scacco e rientriamo nella posizione di prima perché il re è obbligato ad andare in H6, ma dopo torre H4 abbiamo scacco matto. Andiamo adesso ad analizzare un'altra posizione complessa, in questo caso il nostro avversario ha un pedone in più e ci sta minacciando scacco matto in A2, la casa H1 è tenuta, quindi qualsiasi idea di dare scacco matto sulla colonna H non funzionerà, non tanto perché qua c'è l'alfiere, perché dopo torre per H1 avremo di nuovo la torre sulla colonna H pronta a dare matto in H7 o in H8, ma il motivo è che semplicemente il nero arriverebbe prima con scacco matto. Il nero minaccia anche regina per C3 scacco, quindi quali opzioni sono due? O tentiamo di tornare in difesa difendendo i due punti critici, però a quel punto non riusciremo più a dare scacco matto, oppure cerchiamo di trovare una sequenza di mosse forzanti che ci possano portare allo scacco matto prima del nostro avversario. Qui che mosse forzanti abbiamo? Abbiamo vari scacchi, quindi scacchi di regina, sacrifici di regina, che però non portano a nulla perché dopo non riusciamo a proseguire la nostra variante, oppure abbiamo quest'altro scacco che cattura una torre, quindi potrebbe essere già il più interessante. Dopo regina per F8 il re non può andare qua per torre H1 scacco, oppure torre per F7 scacco matto, ma anche torre H1 scacco funziona perché dopo alfiere per H1, torre per H1, ancora una volta il re non ha più nessuna via di fuga. Quindi dopo regina per F8 il nostro avversario deve accettare il sacrificio, adesso andremo a calcolare a mente tutta la variante, quindi se è difficile non preoccupatevi, dopo andremo a vedere nel concreto le varie mosse. Re per F8 adesso che mossa forzante abbiamo? Dobbiamo applicare allo stesso ragionamento. Abbiamo torre per F7 scacco, ma a quel punto dopo re per F7 non avremo più nessun modo per proseguire l'attacco, non abbiamo più pezzi. Un'altra mossa forzante è cavallo E6 scacco, e ci rendiamo conto che adesso questo pedone non può catturarci il cavallo proprio perché la torre sta inchiodando il pedone, qui ora c'è il re, visto che noi ci abbiamo appena sacrificato alla regina su quella torre. Di conseguenza dopo cavallo E6 scacco il nero ha due mosse. Se vai in E8 abbiamo uno scacco matto abbastanza semplice. La torre sale in D8 difesa dal cavallo ed è scacco matto. Il re quindi non può scappare in E8, deve scappare indietro in G8. Una volta che scappa in G8, che mossa forzante abbiamo? Dobbiamo sempre applicare lo stesso procedimento. L'unica mossa forzante che abbiamo è questo scacco di torre. Il cavallo sta tenendo queste due caselle, di conseguenza il re del nero potrà scappare solo in H7, e ora che mossa forzante abbiamo? Occhio a non pensare a torre H1 perché in questo momento c'è l'alfiere. Quindi torre H1 non funzionerebbe, l'altra mossa forzante però è torre per F7, scacco sul re in H7. Adesso il re dove potrà andare? Potrà andare solamente in H6, dato che questa torre toglie tutte le altre vie di fuga, e dopo re H6 possiamo applicare lo scacco matto di Anastasia con questo cavallo che va a togliere le caselle al re del nero che in questo momento si trova qua, e quindi con torre H8 andremo a dare scacco matto. Ovviamente è molto difficile da visualizzare tutto ciò, adesso vi mostro la variante nel concreto. Regina prende, il re prende, cavallo E6, scacco, se il re va in E8 abbiamo detto torre D8 matto, quindi il re deve scappare in G8, scacco, re H7 mossa unica, scacco di nuovo, re H6 mossa unica, e ora torre H8, applichiamo il pattern dello scacco matto di Anastasia. Avevamo quindi a che fare con un esercizio piuttosto complesso, soprattutto dal punto di vista della visualizzazione, dato che dovevamo vedere 5 mosse nel futuro, però c'è da dire che alla fine erano comunque mosse forzanti, ovvero noi facevamo uno scacco, il nostro avversario aveva una mossa unica, scacco, mossa unica, scacco, mossa unica, e alla fine arrivavamo allo scacco matto. Quindi senz'altro è difficile, ma è un buon punto di partenza per cercare di migliorare il calcolo. Questi esercizi sulle mosse forzanti aiutano molto nella visualizzazione. Più esercizi di questo tipo fate, e più diventerete bravi nel visualizzare le posizioni nel futuro. Il maestro Shifu di Kung Fu Panda diceva, se fai solo quello che sai già fare, non sarai mai più di quello che sai già ora. Quindi ottimo, questa era una posizione complessa, ma non è nulla in confronto alla posizione che andremo a vedere ora. Provate assolutamente a stoppare il video, e a trovare la soluzione a questa posizione, perché è veramente una combinazione incredibile. Se riuscite a trovare la soluzione a questo esercizio, siete veramente dei giocatori fenomenali, o comunque avete un sacco di potenziale. In questa posizione la mossa vincente è cavallo D7. Cavallo D7, scacco. Adesso proviamo prima a calcolare la variante senza fare le mosse, dopo ovviamente andiamo a vedere mossa per mossa. Il re è costretto ad andare nell'angolino, quindi fino qua è tutto forzante. Adesso come possiamo proseguire la nostra combinazione forzante? Che scacco abbiamo? Abbiamo questo scacco di cavallo, ma dopo la cattura in realtà non porta praticamente nulla. Un altro scacco che abbiamo è il sacrificio di regina. Per dare lo scacco matto di Anastasia, noi dobbiamo avere un cavallo qua e una colonna aperta, per poi andare a dare scacco matto al re. Quindi regina prende pedone, ci avvicina al nostro obiettivo, andiamo ad aprire la colonna H. Adesso che pezzo è che potrà sfruttare la colonna H? L'unico pezzo che abbiamo è la torre, quindi questa torre in un qualche modo dovrà riuscire a passare in A1. Ma ora c'è il re da spostare e oltretutto dopo essere andati in A1 ci sarebbe ancora questo alfiere sulla colonna. Di conseguenza dobbiamo liberarci di entrambi questi pezzi. Possiamo liberarci dell'alfiere in modo forzato, con un'altra mossa forzante. Abbiamo alfiere scacco, siamo difesi dal cavallo, quindi il re da qua non potrà catturare il nostro alfiere, il nostro avversario potrà catturarci con il pedone. A questo punto però possiamo alzare il re per liberare la torre come vi dicevo prima e il nostro avversario ha qualche modo per parare lo scacco mattino arrivo, perché il re del nostro avversario è qua. Il nero ha questi due pedoni che bloccano la fuga al re e c'è questo cavallo che blocca queste due caselle. Di conseguenza torre qua è scacco matto e se proviamo a pensare anche a qualsiasi mossa del nero nessuna di queste mosse va a parare lo scacco matto. Andiamo a vedere nel concreto questa combinazione. Come vedete il nero non ha nessuno scampo, ora dobbiamo aprire la colonna A per portarci la torre e dopo alfiere B6 scacco quando il nostro avversario ci va a catturare re B2 e torre A1 sta arrivando imparabile. Il nero non ha nessuna mossa per salvarsi. Non ha nessuna mossa per salvarsi per via di questo cavallo. Il matto di Anastasia sta arrivando, l'unico scacco che ha il nero è questo qua ma andiamo semplicemente a catturare la regina e quindi vinciamo la partita. In questo caso il nero poteva anche cercare di scappare senza mangiare l'alfiere ma in realtà poco cambia perché dopo Rai B2 torre A1 sta ancora arrivando ed è scacco matto imparabile. Abbiamo quindi visto la soluzione a questo esercizio di difficile risoluzione anche per giocatori come maestri internazionali quindi non temete assolutamente se non siete riusciti a trovare la soluzione. Allo stesso tempo però per migliorare bisogna cercare di uscire dalla propria zona di comfort e quindi andare a risolvere posizioni magari al di sopra delle proprie possibilità è un ottimo modo per cercare un miglioramento. Vi lascio ora questa posizione da risolvere per conto vostro potete scrivermi la soluzione nei commenti risponderò a tutti quanti come faccio sempre prima del video di domani in modo tale che chiunque abbia tentato di risolvere questa posizione poco prima del video di domani sappia se la propria soluzione è corretta oppure no. È un esercizio sempre riguardante il matto di Anastasia detto questo noi ci vediamo al video di domani grazie ancora una volta per questo enorme supporto che mi state dando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.